Qualcosa sta cambiando in Europa, il successo dei socialisti di François Hollande in Francia alle presidenziali, ma anche la sconfitta della Merkel nelle elezioni regionali, il successo dei laboristi in Inghilterra, la sinistra che avanza in Grecia contro la politica di austerità e anche i sconvolgimenti delle elezioni locali italiane ci dicono che la politica di austerità non può funzionare. Questo gli europei se ne stanno accorgendo dopo cinque anni di recessione, di grasi di crisi che hanno colpito soprattutto l'Italia e la fine di un ciclo, il ciclo del neoliberismo che negli ultimi trent'anni ha imposto a tutti quanti il potere dei mercati della finanza. Il risultato è che in Italia le persone stanno peggio, in particolare 9 su 10 degli italiani stanno peggio di 10 anni fa in termini di reddito, di prospettive per il futuro, di sicurezza, di stabilità, di tranquillità economica e sociale. Tutto il miglioramento economico degli ultimi 10 anni è stato concentrato nelle mani del 10% più ricco. Oggi tra i più ricchi italiani ciascuno di questi ha il reddito di 100 degli italiani più poveri e se guardiamo alla ricchezza abbiamo dei dati impressionanti. I 10 italiani più ricchi hanno ciascuno una ricchezza pari a quella di 300 mila italiani meno fortunati. È una situazione d'ancien regime, prima della rivoluzione francese, da paese feudale. Siamo ritornati a diseguaglianze tipiche della situazione degli anni 30, i tempi della grande depressione. Questo tipo di modello economico che ha lasciato fare i mercati e la finanza ha tolto le tutele e le protezioni al lavoro, ha tolto un affetto importante del reddito dai cittadini che traggono il loro reddito dal lavoro. Il 10% del reddito nazionale si è spostato dal lavoro alla capitale e alla finanza e il risultato è questa crescente disuguaglianza e crescente difficoltà, per una parte crescente degli italiani. Il sistema politico e sociale riflette questi cambiamenti insostenibili e occorre cambiare strada. Nel libro 9 su 10 si fanno i conti di questa crescente disuguaglianza, si fanno i conti del declino del nostro paese e ci sono un po' di proposte su come si può riprendere una strada diversa per uno sviluppo sostenibile dal punto di vista ambientale, equo dal punto di vista sociale, fattibile dal punto di vista politico. Tutto sommato il dibattito francese aperto da François Hollande va proprio in questa direzione.